Buongiorno a tutti, sono Gloria e sono qua in questo posto bellissimo del nostro amato fine chiese. Sono qua per parlarvi della nostra battaglia che stiamo mandando avanti insieme ai nostri amici trentini, bresciani, mantuvani per contrastare l'assurdo progetto del maxidepuratore del Garda che vuole sversare le sue acque depurate nel nostro fine chiese. Stiamo conducendo insieme alla federazione che è l'anima, quella che dà corpo a tutte le nostre associazioni che ci riunisce. Stiamo conducendo questa battaglia legale che è molto forte, decisa e sicura, guerrita, anche se con un elevato e corposo costo di 27.000 euro. Quindi vi chiediamo, chiediamo a tutti di aiutarci ma che alla fine aiutando noi aiutate anche voi perché questo progetto è assurdo per tutti. Quindi aiutiamoci perché insieme l'unione fa la forza. Vi ringrazio, vi auguro buone feste, buon Natale e buon anno.